La nostra è un'azienda che nasce un anno dopo l'Unità d'Italia, quindi ha una storia che è fatta, è una lunga storia che è fatta prevalentemente di tradizione e di innovazione. Tradizione perché noi nasciamo, come potete immaginare, con le lettere, i baglia, successivamente i telegrammi e poi la raccolta postale, eccetera, fino ad arrivare più di recente alle polizze assicurative, a Banco Posta. Ma è un'azienda che è stata fatta e che è fatta anche di innovazione, ma di innovazione, nell'accezione che gli inglesi amano dare la parola innovazione, un per cento ispirazione, poi il resto invece è sudore lavoro. Ed è quello che un po' l'azienda ha cercato di fare e che continua a fare dalla sua nascita ad oggi, cercando di trasformare l'innovazione poi in prodotti e servizi che concretamente hanno dato nel corso dei decenni e degli anni un servizio alle persone. Pensate appunto a tutto il servizio della corrispondenza, parlavo dei baglia, pensate al risparmio gestito, al risparmio degli italiani, noi abbiamo in questo momento gestiamo 420 miliardi di euro di risparmio degli italiani, quindi abbiamo 30 milioni di clienti, abbiamo milioni di carte di credito. Ecco, questi sono numeri che rendono, secondo me, bene il concetto anche di fiducia. Questa è un'azienda, posta italiana, un'azienda che ha un marchio che ha il 93% di fiducia da parte degli italiani e i numeri che vi ho cercato di dare in maniera molto breve dimostrano quanto in realtà nella storia del Paese e nella percezione degli italiani il marchio posta italiana è un marchio assolutamente di fiducia. è un binomio che, come dicevo, si è rafforzato nel corso degli anni e che, voglio dire, ha portato oggi l'azienda a fare molte più cose di quante in realtà non si sappia. Posta italiana oggi non consegna soltanto la corrispondenza ai pacchi ma ha un business molto florido nel settore delle polizze assicurative e noi puntiamo nel progetto, nel piano strategico post-eventi-venti che abbiamo presentato un paio di mesi fa è un piano strategico a cinque anni in un contesto generale dove le aziende, come sapete, tendono a ragionare a quarter o a semestri quindi l'idea di presentare un piano a cinque anni sicuramente c'è la visione del nostro amministratore delegato ma anche la volontà e la coscienza rappresentando, diciamo, uno degli asset strategici, crediamo, del Paese la possibilità di, cambiando noi, modernizzandoci noi come azienda di dare una mano e di contribuire, di aiutare il Paese diciamo, a passare da un'economia tradizionale ad un'economia più digitale come? Attraverso quello che per noi è diventato un po' il mantra attraverso uno sviluppo inclusivo la parola inclusione l'abbiamo sentita oggi ripetere più volte noi ci crediamo davvero e per noi sviluppo inclusivo sono le cose che facciamo e quindi per venire a bomba e per dimostrare che siamo veloci e ci stiamo nei tempi un paio di progetti uno è quello dello sportello amico che noi porteremo a 6.000 hanno uno di 6.000 sportelli a breve quindi, diciamo, rispetto ai 13.000 che sono sparsi sul territorio italiano la metà di questi sportelli sono sportelli che sono comunicati attraverso delle vetrofanie che danno la possibilità ai cittadini, alle persone ai nuovi italiani in uno sportello di poter richiedere la visura catastale di poter richiedere il certificato il permesso di soggiorno di poter pagare le tasse quindi è di fatto una modalità con la quale noi stiamo cercando di aiutare gli italiani nessuno escluso quindi i giovani i nuovi italiani le persone, diciamo della terza età ad una vita più semplice che poi fondamentalmente l'innovazione deve essere questo noi non pensiamo all'innovazione pensando ai telefonini che si illuminano i led pensiamo a dei servizi che possano realmente migliorare la qualità della vita delle persone l'altro progetto che ci tenevamo diciamo a promuovere in questo contesto è quello degli uffici postali multietnici abbiamo fatto un esperimento su tre uffici uno a Roma a Stazione Termini uno a Prato e un altro a Firenze sono uffici dove noi abbiamo personale anche personale multietnico quindi abbiamo assunto a tempo indeterminato persone che vengono dalla Cina che vengono dalla Romania che vengono dai paesi arabi perché abbiamo notato abbiamo visto che c'è una necessità da parte dei nuovi italiani di accedere a tutta una serie di servizi che diversamente sarebbero difficili quindi li aiutiamo nella bancarizzazione quindi li aiutiamo ad aprire dei conti correnti li aiutiamo nello spedire magari a casa pacchi ai familiari quindi diciamo che c'è un servizio che non va a inficiare il servizio che normalmente viene fornito ai normali clienti diciamo agli italiani passatemi il termine perché a differenza in questo ufficio postale ci saranno gli elimina code che di fatto funzioneranno non in funzione scusate la ripetizione dei servizi ma in base alla lingua per cui si creeranno dei due circuiti diversi e queste persone avranno la possibilità di accedere ai servizi che normalmente l'azienda fornisce due progetti ce ne sarebbero altri ma voglio contenere il mio intervento che vanno nella logica dello sviluppo inclusivo che noi crediamo sarà diciamo il punto di partenza e il fil rouge per il nostro piano strategico che ci porterà nel 2020 ad avere un'azienda siamo sicuri più moderna grazie 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 a Giuseppe Coccona anche per la rapidità di questa raccomandata